C'è però spazio anche per Diego Fabrini al primo gol in Serie P, un gol in controbalzo dopo il cross di Coralli, un gol che a un quarto d'ora della fine dà ancora speranza a Campilongo che mette tutte le punte a sua disposizione in campo. Trentatresimo, Fabrini corre sulla sinistra, si libera e in secca di potenza sul secondo palo, Siciliano battuto e si riparte dall'1-1. Val di Fiori stanno salendo centralmente Coralli e Fabrini, si ferma Val di Fiori, una finta, un bel movimento, il cross dentro per Coralli, attenzione Fabrini, Fabrini, 2-0 Empoli, 2-0 Empoli al quarantaquattresimo minuto, secondo gol in campionato per Fabrini.